ciao ragazzi e bentornati sul mio canale io sono il lanciere ed oggi finalmente lanciamo la prima collezione di figurine dedicata al campionato 2023 2024 perché perché per il terzo anno consecutivo la panini fa uscire questa raccolta calciatori anteprima l'album è andato via via sempre crescendo e stavolta praticamente è arrivato alle dimensioni di un album maxi di quelli che conosciamo ormai da un po di tempo perché sono quelli lo stesso formato del dell'album ammiraglia diciamo dell'album calciatori panini in questo video vi andrò a presentare un pochino la raccolta e poi ci andremo ad aprire qualche pacchetto insieme per vedere come sono fatte queste figurine però prima di partire io come sempre vi ricordo di iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto attivare la campanella e soprattutto schiacciare un bel like a questo video e allora possiamo partire partiamo subito con la copertina ragazzi quest'anno è veramente molto bella è un album che non mi fa impazzire questo della raccolta calciatori anteprima però devo dire la verità che negli anni è andato migliorando sicuramente la prima edizione era veramente inguardabile adesso almeno abbiamo un album decente con una bella copertina come come ormai noto la scritta le grandi raccolte per la gioventù viene sostituita da questa le nuove raccolte per la gioventù e abbiamo il pallone della serie a team con tutte le squadre intorno l'album è su 56 pagine e ben 350 figurine quindi anche il numero di figurine è andato nei tre anni via via crescendo e tante sono le novità di questa raccolta perché perché quest'album non si ferma soltanto alle serie a ma abbiamo serie a serie b e anche addirittura tutti gli scudetti delle squadre di serie c quindi veramente interessante anche le figurine sono aumentate abbiamo ben 12 figurine per squadra non c'è lo stemma che vediamo qua in alto che è già è già disegnato abbiamo la maglia l'allenatore due figurine new entry poi abbiamo le figurine key players e ce ne sono ben 8 di cui due sono di un giocatore a figura intera quindi per esempio in questo caso per l'atalanta abbiamo cop miners la serie a si sviluppa tutta così andiamo a vedere fino alla pagina centrale con tre spillette sembra anche ben ben messa c'è la pagina del napoli campione d'italia con rudy carcia e vediamo eccola qua la figurina in grande di victor osimen e qui sulla destra abbiamo quella che sarà quella di qui c'è qua la schelia andiamo avanti e al termine della serie a abbiamo anche due pagine dedicate al fanta team con la possibilità di schierare le nostre doppie in una in una formazione fantastica e in più qua ci viene detto che possiamo condividere con gli hashtag calciatori anteprime figurine panini i nostri dream team che panini condividerà sui social la serie b la serie b sono quattro figurine per ogni squadra abbiamo la maglia e tre figurine di calciatori chiave così per tutta la serie b mentre per la serie c abbiamo soltanto gli scudetti però è già qualcosa abbiamo schierati tutti gli scudetti di tutte e 60 le squadre che appartengono al gironi a b e c retro della copertina classico questo è l'album a pagamento versione da 2 euro e niente vi anticipo anche che ci sarà il servizio figurine mancanti quindi non vi preoccupate se non riuscite a terminare l'album subito ecco qua anche il box stile calciatori anteprima 24 bustine all'interno di un box il prezzo non è proprio dei migliori anche se almeno all'interno troviamo 6 figurine dovremmo trovare ho letto che se ne trovano 6 quindi adesso verifichiamo subito 24 bustine quindi se sono 6 figurine serviranno non solo 1 o 2 box forse anche qualcosa in più quindi il prezzo sicuramente quest'anno diventa più importante rispetto a quelli degli altri anni eccolo qua il pacchetto ormai praticamente molto simile a quello delle raccolte calciatori standard la raccolta che uscirà a dicembre e noi andiamo subito ad aprire il primo vediamo che cosa troviamo partiamo allora sono figurine grandi quindi non sono figurine piccole va bene così la qualità insomma non è carta fotografica come quelle per la raccolta calciatori però non mi sembra male partiamo subito con una maglia eccola qui la maglia del palma quindi una delle maglie della serie b queste sono le figurine dei key players quindi abbiamo luisa alberto andrea sottilla la foto dell'allenatore dell'udinese abbiamo altri key players con gendry per il lecce caputo all'empoli e milinkovic savic quindi figurine diciamo dove si vede il giocatore per intero in movimento quindi niente male mi piace ce l'hanno la maglia della squadra campione italia il napoli almeno almeno stavolta rispetto all'adrenaline questa è la maglia ufficiale non abbiamo ripetizioni dello scorso anno questa è la maglia che il napoli usa quest'anno davide faravoli intanto e anche sulle figurine abbiamo le maglie di quest'anno meno male racmani ngonge simone inzaghi come tecnico dell'inter andiamoci a aprire qualche altro pacchetto e vediamo se troviamo qualcos'altro interessante passiamo anche alle figurine della serie b abbiamo trovato valerio mantovani della ternana quindi eccole qui e abbiamo trovato anche le figurine dei giocatori quelle a puzzle quindi questa è combiners la parte alta una nuova firma davide frattesi le new entry quindi abbiamo trovato tutte le sezioni dovremmo aver trovato abbiamo tommaso augello qui del cagliari e monterisi per il frosinone new entry in serie a e poi due maglie brindisi e casertana qui per la serie c quindi non ci sono gli stemmi della serie della serie c ci sono le maglie perché queste sono due squadre della serie c girone c quindi ho sbagliato io andiamo avanti felipe anderson per la lazio altra new entry giordi in bula per il verona la maglietta del genoa poi abbiamo gilardino coach del genoa provercelli e protesto e ancora gubbio e fermana dobbiamo sperare che come non come gli altri anni che questi box contengano meno doppioni perché mi ricordo che nel box dello scorso anno insomma si trovava qualche doppione in più rispetto a quello del primo anno che con un box praticamente si completava la raccolta lautaro martinez abbiamo trovato un bel bomber che per adesso sta facendo veramente il pazzo in serie a mi sembra che ha già segnato nove gol kien mangraviti qui del brescia e per il legge abbiamo joan gonzalez e sembra avviato veramente a lottare fino alla fine per il titolo di capo cannoniere della serie a ecco una parte sotto questo è god munson per il genoa idolo dei tifosi del grifone tuttino qui per il cosenza abbiamo pulisic una delle nuove firme del milan sessi levante e il rimini sessi levante che ha vinto lo scudetto diciamo serie di l'anno scorso battendo in finale il sorrento quindi i campioni della serie di del 2021 del 2022 23 e i bischi per il bologna poi 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 per adesso non mi sembra di aver visto doppione o rafaleao le gambette di rafaleao le gambette anche di strefezza la maglietta del venezia poi abbiamo monopoli e monterosi tuscia la maglietta della roma ragazzi quanto mi piace quest'anno la maglietta della roma e poi castrati il portiere della cittadella ultimo pacchettino poi chiudiamo il video abbiamo la parte alta del giocatore del bologna anche di gudmunson ancora una parte alta di rabbio parisi nuova firma poi adorni per il brescia e marchizza per il frosinone ragazzi termina qua questo video allora do un giudizio il giudizio è positivo perché le figurine sembrano veramente ben fatte e poi queste figurine in movimento mi piacciono davvero tanto il problema è che non capisco l'uscita di questa raccolta calciatori anteprima per me sarebbe meglio aspettare la raccolta calciatori intanto ci sono le carte adrenaline a farci compagnia fino a dicembre anzi anche oltre quando usciranno le carte di aggiornamento quindi è una raccolta messa là che ha poco senso però devo dire la verità le figurine un po diverse rispetto a quelle imposta dei calciatori almeno fanno sì che questa raccolta possa essere fatta fatemi sapere nei commenti i vostri giudizi fatemi sapere se la state collezionando anche voi se l'avete iniziata se l'avete finita se non la farete proprio io intanto prima di salutarvi vi ricordo come sempre l'iscrizione al canale di attivare la campanella e soprattutto di schiacciare un bel hack a questo video e detto questo con calciatori anteprima di panini tutte le figurine della raccolta con i giocatori in movimento e da lanciere tutto ci vediamo al prossimo video ciao